Sarà il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad aprire l'edizione 2017 del meeting per l'amicizia tra i popoli in programma a Rimini dal 20 al 26 agosto. Ieri la presentazione a Roma, il meeting di Rimini è sempre occasione di una ripresa non solo perché si colloca al termine della pausa estiva quando ci si appresta a riprendere l'attività in tutti i settori della vita del nostro paese ma perché con i suoi temi trasversali, in passato a volte anche di decodificazione piuttosto impegnativa, vuole favorire un dialogo senza barriere come spiega la Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli Emilia Guarnieri e lanciare messaggi costruttivi mettendo in relazione mondi diversi. Alla presentazione della Kermes di Comunione e Liberazione erano presenti il Ministro degli Esteri Angelino Alfano, Eraldo Affinati e padre Antonio Spadaro. Abbiamo dialogato con loro sul tema del meeting di quest'anno, quello che tu erediti dai tuoi padri riguadagnatelo per possederlo. Qual è la questione? Abbiamo chiesto a loro ma la questione è quella di recuperare delle ceneri, di recuperare un passato, un'identità perduta o non piuttosto di guardare a ciò che abbiamo tra le mani, a ciò che abbiamo nel cuore perché tutto questo possa essere attraversato da una libertà grande capace di guardare in avanti con speranza di fronte alle sfide che ci attendono.